Secondo i miei fratelli passo troppo tempo nella forza, dicono che non è degno di un re. Armi leggendarie come le mie non si forgero stando seduti su un torrono. Le piazze di caspo d'anni appartengono, ma come dico sempre, è ora di impugnare il mortello! Grazie per la visione!